reina erano arrivati i barbari in gruppi di 20 o 30 i turisti sciamavano fra le rovine vagabondavano attorno alla villa e lungo le strade lastricate guardando a bocca aperta agli affreschi e i mosaici colorati reina si preoccupò al pensiero di come avrebbero reagito di fronte all'immensa statua di atena al centro della corte ma la foschia stava facendo gli straordinari per oscurare la vista dei mortali ogni volta che si avvicinavano i turisti restavano i margini della corte e la guardavano con disappunto una guida annunciò in inglese impalcature a quanto pare questa zona in restauro che peccato proseguiamo il giro e così si allontanavano almeno la statua non si era messa a tuonare morite miscredenti riducendo i mortali in cenere reina una volta aveva avuto a che vedere con una statua del genere raffigurante la dea diana non era stata una giornata molto rilassante ripensò a quello che annabeth le aveva detto sulla tena partenos la sua aura magica attirava i mostri allo stesso tempo li respingeva e come a dimostrazione di quando in quando reina scorgeva con la coda dell'occhio dei candidi luccicanti spiriti in abiti romani che balenavano fra le rovine e scrutavano la statua costernati questi lemures sono dappertutto brontolò glison per ora si tengono a distanza ma quando calerà la sera sarà meglio essere pronti a partire gli spiriti sono sempre peggiori di notte reina non aveva bisogno di sentirselo ricordare osservò una coppia di anziani che in bermuda e maglietta color pastello gironzolava in giardino fu contenta che non si avvicinassero di più attorno al piccolo accampamento il coach aveva piazzato ogni sorta di cavo marchiginio e trappola tutte cose che non avrebbero mai fermato un mostro che si rispetti ma che potevano benissimo abbattere un anziano nonostante il mattino caldo reina rabbrividi per i suoi sogni non sapeva quale fosse il più terrificante la distruzione imminente di nuova roma o il modo in cui ottaviano stava avvelenando la legione dall'interno la tua impresa è la missione di un pazzo il campo giovi aveva bisogno di lei la dodicesima legione aveva bisogno di lei eppure reina era dall'altra parte del mondo a guardare un satiro che cucinava waffle ai mirtilli arrostendoli sul fuoco con un bastone voleva parlare dei suoi incubi ma decise di aspettare il risveglio di nico non era sicura di avere il coraggio di descriverli due volte nico continuava a russare reina aveva scoperto che una volta addormentato era difficilissimo svegliarlo il coach poteva mettersi a ballare il tip tap con i suoi zoccoli caprini attorno alla sua testa il figlio di ade non avrebbe mosso ciglio tieni edge le offrì un piatto di waffle alla fiamma con sopra delle fettine di ananas e kiwi dall'aspetto sembravano buonissimi dove si procura questa roba si meravigliò reina ehi sono un satiro siamo molto efficienti quando facciamo i bagagli il coach staccò un morso di waffle e siamo anche bravi a vivere dei frutti della terra mentre reina mangiava lui tirò fuori un tacquino e si mise a scrivere quando ebbe finito fece un aeroplanino con il foglio di carta che aveva appena addoperato e lo ranciò in aria una brezza lo portò via una lettera per sua moglie chiese reina sotto la tesa del cappellino da baseball edge aveva gli occhi rossi melli è una ninfa delle nuvole gli spiriti dell'aria usano molto spesso la posta aerea di carta spero che i suoi cugini trasporteranno la lettera sopra l'oceano finché non arriverà a destinazione non è un metodo veloce come i messaggi iride ma beh voglio che nostro figlio abbia qualcosa di me casomai ecco la riporteremo a casa promise reina vedrà suo figlio edge strinse la mascella e non rispose reina era molto brava a far parlare le persone per lei era fondamentale conoscere i suoi commilitoni ma aveva scoperto che era difficile convincere il coach ad aprirsi a proposito di sua moglie melli che presto avrebbe avuto un figlio al campo mezzo sangue faticava un po a immaginare il satiro come padre però sapeva cosa significava crescere senza genitori e non avrebbe mai permesso che accadesse al figlio di edge sì beh il satiro staccò un altro morso di waffle portandosi via anche un pezzetto del bastone sul quale lo aveva arrostito vorrei soltanto che riuscissimo a muoverci più velocemente indico nico con un cenno del mento non so come farà a resistere a un altro salto e quanti ce ne mancano per arrivare a casa reina aveva la stessa preoccupazione di lì a 11 giorni i giganti progettavano di risvegliare gea ottaviano programmava di attaccare il campo mezzo sangue non poteva essere una coincidenza forse gea bisbigliava all'orecchio di ottaviano influenzando inconsciamente le sue decisioni o peggio ottaviano era in piena combutta con la dea della terra reina stentava a credere che chiunque perfino ottaviano potesse tradire la legione ma dopo quello che aveva visto in sogno non era più tanto sicura finì di mangiare mentre una comitiva di turisti giapponesi passava di fronte alla corte era sveglia da meno di un'ora e già le bruciava il terreno sotto i piedi grazie per la colazione coach si alzò e stiracchiò i muscoli ora se vuole scusarmi ovunque ci siano turisti ci sono anche dei bagni e io devo farci un salto vai pure il coach giocherellò con il fischietto che portava appeso al collo e succede qualcosa ti faccio un fischio reina lasciò aurum argentum di sentinella e si mescolò alla folla di mortali finché non raggiunse un centro visitatori con gabinetti pubblici fece il possibile per darsi una ripulita ma trovò ironico che nonostante fosse in una vera città romana non potesse usufruire delle terme dovette accontentarsi di tovagliolini di carta un flacone mezzo rotto di sapone e un asciugatore elettrico con l'asma quanto ai gabinetti meglio non parlarne tornando indietro superò un piccolo museo con una vetrina che esponeva una fila di figure di gesso tutte ritratte negli ultimi spasimi della morte una bambina in posizione fetale una donna in agonia la bocca spalancata in un grido le braccia in alto un uomo inginocchiato e con la testa china come se avesse accettato l'inevitabile reina le fissò con un misto di orrore e repulsione sapeva di quelle figure lo aveva letto nei libri ma non le aveva mai viste di persona dopo l'eruzione del vesuvio la cenere vulcanica aveva sepolto la città e si era indurita come roccia sui pompeiani morenti i loro corpi si erano disintegrati lasciando vere e proprie sacche d'aria dalla forma umana i primi archeologi avevano gettato del gesso nelle sacche e ne avevano ricavato quelle statue repliche raccapriccianti di antichi romani reina trovava inquietante sbagliato che gli ultimi attimi di vita di quelle persone fossero messi in mostra come nella vetrina di un negozio eppure non riusciva a distogliere lo sguardo per tutta la vita aveva sognato di venire in italia dando per scontato che non sarebbe mai successo le antiche terre erano proibite ai semi dei moderni era una zona troppo pericolosa tuttavia aveva sempre desiderato seguire le orme di enea figlio di afrodite il primo semidio a insediarsi lì dopo la guerra di troia aveva sempre desiderato vedere il tevere originario dove la lupa aveva salvato romolo e remo ma pompei non era mai stata fra le mete dei suoi sogni il luogo del disastro più famigerato dell'antica roma un'intera città inghiottita dalla terra dopo gli ultimi incubi era un'immagine che la toccava troppo sul vivo fino ad allora nelle antiche terre l'unico luogo della lista dei suoi desideri che aveva visitato era il palazzo di diocleziano a spalato e neanche lì era andata come aveva sperato un tempo reina sognava di andarci con jason per ammirare la casa del loro imperatore preferito si era immaginata romantiche passeggiate nella città vecchia picnica al tramonto sui parapetti invece era arrivata in croazia senza di lui ma con una decina di spiriti del vento inferociti alle calcagna era penetrata nel palazzo combattendo contro i fantasmi e sulla via del ritorno aveva subito un attacco di grifoni che avevano ferito a morte il suo pegaso l'unico momento di vicinanza con jason era stato quando aveva trovato il suo messaggio sotto il busto di diocleziano avrebbe conservato solo ricordi dolorosi di quel posto non essere così amareggiata si rimproverò anche ne ha sofferto e anche romolo e diocleziano e tutti gli altri i romani non si lamentano delle difficoltà guardando le figure di gesso nella vetrina del museo si chiese cosa avessero pensato quelle persone un attimo prima di morire incenerite probabilmente non beh siamo romani non dobbiamo lamentarci una raffica di vento spazzò le rovine con un gemito sordo il sole si riflette sulla vetrina accecandola per un secondo preina trasalì e sollevò lo sguardo il sole era proprio sopra la sua testa come poteva essere già mezzogiorno aveva lasciato la casa del fauno poco dopo colazione era rimasta lì solo qualche minuto o no si staccò dalla vetrina del museo e affrettò il passo scuotendosi di dosso la sensazione che i pompeiani morti le bisbigliassero alle spalle il resto del pomeriggio passò con una tranquillità snervante reina restò di guardia mentre il coach dormiva ma non c'era molto di cui preoccuparsi i turisti andavano e venivano arpie solitarie spiriti del vento ogni tanto volteggiavano nel cielo i suoi cani ringhiavano e digrignavano i denti ma i mostri non si fermavano a combattere i fantasmi si aggiravano furtivi ai margini della corte intimiditi dall'atena partenos reina non poteva biasimarli più la statua rimaneva pompei più la rabbia che irradiava sembrava aumentare lasciando perfino lei con i nervi a fior di pelle finalmente poco dopo il tramonto nico si svegliò e divorò un panino al formaggio e avocado era la prima volta che mostrava un vero appetito da quando aveva lasciato la casa di ade reina non avrebbe mai voluto rovinargli la cena ma non c'era molto tempo mentre la luce del giorno scemava a poco a poco gli spiriti si avvicinavano sempre di più ed erano sempre più numerosi lei gli raccontò i suoi sogni la terra che inghiottiva il campo giove ottaviano che circondava il campo mezzo sangue il cacciatore con gli occhi di luce e l'aveva colpita con una freccia nello stomaco nico fissò il piatto vuoto questo cacciatore era un gigante forse il coach sbuffò preferirei non scoprirlo io dico di andare nico trattenne un sorrisetto lei ci sta suggerendo di evitare una battaglia senti tesoruccio mi piace menare le mani come a chiunque altro ma abbiamo già abbastanza mostri di cui preoccuparci per mettere in conto pure un gigante cacciatore di taglie che ci insegue per mezzo mondo non mi piace per niente l'idea di quelle grosse frecce per una volta concordo con il coach a misereina nico spiegò il suo giubbotto d'aviatore infilò il dito nel buco che una freccia gli aveva lasciato su una manica potrei chiedere un consiglio sembrava riluttante taglia grace la sorella di jason disse reina non aveva mai incontrato talia in effetti aveva saputo solo di recente che jason aveva una sorella stando a quello che lui le aveva raccontato talia era una semidea greca figlia di zeus ed era capo di un gruppo di seguaci di diana no di artemide santi numi solo a pensarci le girava la testa nico annui le cacciatrici di artemide sono beh cacciatrici e se c'è qualcuno che può sapere chi è questo gigante cacciatore talia è la persona giusta potrei provare a mandarle un messaggio iride non sembri molto entusiasta però notò reina siete in cattivi rapporti no figurati poco lontano aurum ringhiò appena significava che nico stava mentendo reina decise di non insistere io invece potrei provare a contattare mia sorella illa disse il campo giove è rimasto con poche difese se gea dovesse attaccare le amazoni potrebbero aiutarci il coach edge aggrottò la fronte senza offesa ma cosa può fare un esercito di amazoni contro una marea di terra reina dovette reprimere un'ondata di orrore sospettava che edge avesse ragione contro quello che aveva visto in sogno l'unica difesa possibile era impedire ai giganti di risvegliare gea perciò non doveva fare altro che riporre la sua fiducia nell'equipaggio del largo due la luce del giorno era quasi svanita attorno alla corte si stava radunando una folla tumultuosa di spiriti centinaia di romani luccicanti armati di mazze e pietre possiamo riparlarne dopo il prossimo salto decise reina ora dobbiamo andarcene di qui sì nico si alzò penso che con un po di fortuna stavolta possiamo raggiungere la spagna fammi solo la folla di fantasmi svanì come una massa di candeline di compleanno spente con un unico soffio reina portò subito la mano al pugnale dove sono andati gli occhi di nico sfrecciarono sulle rovine la sua espressione non era rassicurante non ne sono sicuro ma non credo che sia un buon segno state in guardia io comincio a mettermi l'imbracatura ci vorrà solo qualche secondo glison edge si so sugli zoccoli qualche secondo che voi non avete reina si sentì rattrappire lo stomaco edge parlava con una voce di donna la stessa che reina aveva udito nel suo incubo estrasse il pugnale edge si voltò a guardarla il volto inespressivo gli occhi erano completamente neri rallegrati reina avila ramire sareiano morirai da romana ti unirai agli spiriti di pompei la terra tremò tutt'attorno alla corte spirali di cenere turbinarono nell'aria per poi solidificarsi in rozze figure umane gusci di terra simili a quelli del museo fissavano reina gli occhi come buchi frastagliati nei volti di pietra la terra vi inghiottirà proseguì edge con la voce di gea proprio come ha inghiottito loro